La domanda che ci poniamo è se questo concetto di ampiezza biologica possa essere applicata anche all'implantologia. Vi parlerà molto bene Enzo di quelle che sono le risultanze biologiche e scientifiche legate appunto a questi studi della scuola di Linde, però possiamo dire che l'ampiezza biologica in letteratura su impianti è stata ampiamente documentata. Quello che ci dovremmo chiedere è che ci chiediamo qual è il ruolo del protesista nel rispetto di questa ampiezza biologica su impianti. Allora il protesista può insieme al chirurgo chiaramente programmare in maniera tridimensionalmente corretta la posizione degli impianti. Può valutare il numero di impianti e il diametro degli impianti necessari per una riabilitazione protesica, può scegliere il tipo di impianto, sempre insieme al chirurgo Enzo, bone level o tissue level, può soprattutto gestire i tessuti molli con i restauri provvisori e può scegliere i materiali più idoni per la finalizzazione protesica e anche le tecniche più adatte per produrre quei restauri. Quindi per quanto riguarda il posizionamento tridimensionale dell'impianto, diciamo che noi sappiamo che l'impianto deve essere posizionato in maniera corretta in senso vestibolo-linguale, in senso apico-coronale e in senso messio-distale. Su questo non mi soffermo molto anche perché ieri, dopo la lezione del professor Buser, non abbiamo molto da dire a riguardo. Devo dire che però l'approccio che poi vi ha descritto ieri Matteo Chiapasco è assolutamente corretto perché lui ha detto che prima di eseguire tecniche ricostruttive noi dobbiamo sapere dove saranno i nostri restauri protesici. ed infatti prima delle procedure ricostruttive ossee, anche importanti come in questo caso, noi facciamo insieme al laboratorio un progetto del caso protesico, diamo al chirurgo la possibilità di sapere e anche importanti come in questo caso. Grazie.